E' una storia travagliata ma con finale a lieto fine, quella della variante SR429 di Valdelsa tra Empoli e Castelfiorentino. Tre anni fa il commissariamento. L'opera fu affidata all'ingegnere Alessandro Annunziati, commissario regionale. Grazie a lui, alla Regione Toscana, alla città metropolitana e ai sindaci dei comuni coinvolti, senza ulteriori ritardi siamo arrivati ad oggi, con la chiusura dei lavori del sesto lotto per la realizzazione della variante. Si tratta di un'opera che complessivamente, assommando tutti i lotti, supera i 40 milioni di euro che sono stati messi a disposizione dalla Regione, dal Governo per quanto riguarda il quarto lotto con il patto della città metropolitana con una compartecipazione degli enti. C'è una grande collaborazione tra i comuni e i sindaci che fanno veramente da mastini e sollecitano l'andamento dei lavori sia per quanto riguarda le progettazioni sia per quanto riguarda la realizzazione. Il commissario della Regione che ha avviato un passo che in maniera costante sta portando avanti e quindi questo ci fa dire che finalmente i cittadini potranno vedere quello che è stato realizzato, non soltanto sentirne parlare, potranno transitare in questo primo lotto. L'altro aspetto che sottolineo è che questo porterà un grande sollievo dal punto di vista della mobilità, della circolazione, soprattutto per i pendolari che usano la macchina, ma anche per quelli che usano il treno, perché questo sesto lotto supera il passaggio a livello di Brusciana che è il passaggio a livello più incidentato della Toscana e quindi anche la regolarità del servizio ferroviario avrà un grande, grandissimo beneficio. Come detto dall'assessore Ceccarelli, la SR 429 è fondamentale per la viabilità del territorio della Val d'Elsa, proprio perché fondamentale la chiusura dei lavori del sesto lotto è stata accolta come una vittoria dai sindaci dei comuni coinvolti, su tutti quello di Empoli, Brenda Barnini, e quello di Castelfiorentino, Alessio Falorni. Su questa strada, sul tracciato originario della 429, stanno famiglie, imprese, che hanno vissuto delle situazioni drammatiche a causa di questa carenza infrastrutturale. Aprire questo lotto, aprire da Molin Nuovo allo svincolo di Empoli Centro, significa togliere dalla tagliola del passaggio a livello di Brusciana sia chi pendola con la macchina, sia chi prende il treno per andare a lavorare o per studio. E quindi vuol dire, per chi passa con la macchina, risparmiare almeno 40 minuti tra l'andata e il ritorno di percorribilità di quel passaggio a livello e per i pendolari del treno non sottostare alla possibilità che il passaggio a livello più abbattuto della Toscana determini una situazione di fermo del treno o nei ritardi conseguenti. Ai cittadini mi sento di dire di mantenere alta l'attenzione e anche la pressione che noi abbiamo ricevuto in questi tre anni perché è giusto che sia così. Sì, noi siamo qui a rappresentare loro e a fare i loro interessi e nient'altro e quindi continuiamo fiduciosi sulla strada che abbiamo intrapreso. Il costo complessivo dei lavori di completamento del sesto lotto è di 6 milioni e 427 mila euro comprensivi delle opere di sistemazione ambientale che saranno realizzate al termine dell'estate e di alcuni lavori complementari sulla via di Brusciana. A fine luglio il tratto dovrebbe già essere percorribile. Per quanto riguarda gli altri lotti vanno avanti i lavori di progettazione per il lotto 4 finanziati dal governo all'interno del patto per Firenze e c'è già la copertura economica anche per il lotto 5 a carico della regione che finanzierà anche la progettazione per il tratto Castelfiorentino-Certaldo. Da un punto di vista ingegneristico la 429 è stata pensata affinché potesse inserirsi perfettamente nello splendido paesaggio che attraversa e minimizzando l'impatto ambientale ad esempio ricorrendo a lampade a led per illuminare le gallerie.